La premiata ditta Lalli-Bordoni stende l'alba adriatica, 4 gol del numero 9, 3 assis del numero 7 e gli uomini di Mecomonaco volano in testa alla classifica. Dopo un minuto punizione di Bordoni, palla insidiosa in aria che Lucantoni smanaccia. Al quindicesimo altra punizione stavolta di Francia, nessun pericolo per la porta dell'alba. Al ventitresimo la sponda di Lalli lancia nello spazio Bordoni che però non sfrutta l'occasione calciando fuori. Al trentaquattresimo prima occasione per gli ospiti, il diagonale sul primo palo di Spinozzi trova attento Meo. Nel secondo tempo al quarantottesimo il Francavilla sblocca il risultato, i giallorossi recuperano palla, cross in mezzo di Bordoni e colpo di testa vincente di Lalli, 1-0 al quarantottesimo. Al cinquantatresimo Alba subito vicino al pareggio sul pericoloso cross in aria, Miccoli rischia l'autogol. Al cinquantottesimo arriva però il raddoppio del Francavilla, angolo per i padroni di casa, colpo di testa di Lalli e per il numero 9 doppietta, 2-0 al cinquantottesimo. Al sessantacinquesimo gran botta da fuori di Scaramazza, Meo respinge. Due minuti dopo l'arbitro fischia rigore per fallo di milizia su Vincenzi, un fallo fuori aria. Dal dischetto Liguori appositamente entrato dalla panchina spiazza Meo, 2-1 al sessantottesimo. Al sessantanovesimo si rivede Lalli, Luca Antoni blocca in due tempi. Al settantunesimo lo scatenato Lalli chiude la partita trasformando in gol. L'assist del solito Bordoni, tripletta per Lalli e 3-1 al settantunesimo. Al settantottesimo Lalli ingrossa ulteriormente il suo bottino personale con una precisa incornata da calcio d'angolo. Quaterna per il numero 9, 3-assist di Bordoni e 4-1 finale. Mister Mecomonaco, vittoria 4-1, una bella prova contro un diretto avversario per la promozione. Primo posto conquistato, ci sono tanti motivi per essere felice. Sì, siamo contenti, soprattutto per la prestazione. Forse il primo tempo eravamo un po' troppo contratti. Nel secondo tempo siamo andati un pochettino meglio, dal momento in cui abbiamo sbloccato il risultato è andato tutto più semplice. Abbiamo incontrato una squadra veramente forte, sempre organizzata, con la grande intensità alla gara. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Penso che alla fine abbiamo vinto anche meritatamente. Mister Di Amicis, primo tempo equilibrato, poi nel secondo tempo c'è stato un crollo. Come mai? Non lo so. Adesso a caldo è difficile dire come mai. Loro sicuramente nel secondo tempo sono rientrati con un altro piglio, secondo me. Un'altra cattiveria e hanno dimostrato di essere una squadra forte. Secondo me rispetto ad oggi hanno dimostrato di essere di un'altra pasta rispetto all'Alba Adriati. Una squadra che può vincere questo campionato, una squadra cinica, ha sfruttato al meglio le occasioni che gli si sono presentate. Ripeto, una squadra forte. Noi siamo mancati, siamo mancati al livello di attenzione, di cattiveria. Stranamente perché in queste prime partite non concediamo pochissimo all'avversario. Siamo abbastanza attenti, anche se poi magari non produciamo tanto il gioco, così come succedeva negli anni scorsi. Però concediamo pochissimo, oggi delle disattenzioni veramente assurde. Abbiamo preso tre gol colpi di testa, praticamente, che ci hanno tagliato le gambe. Però, insomma, noi sappiamo quello che dobbiamo fare. Voglio dire, ripeto, non siamo al livello di Francavilla, di Sulmona, di altre sette, otto squadre più forze sicuramente di noi. Abbiamo preso questa batosta. Speriamo che sia salutare per il proseguio. Non cambia assolutamente. Da martedì ricomincieremo a lavorare e cercare di fare bene anche in questo campionato.